Buonasera, buonasera, questa è C'è posta per zam, zamchiocciolamoto.it è l'indirizzo email dove indirizzare le vostre email, le vostre domande, le vostre richieste, le vostre critiche. Questa è l'unica trasmissione che viene fatta da voi, quindi siete voi a farla, a scegliere gli argomenti con le vostre email. Gran premio del Portogallo, splendida vittoria di Dani Pedrosa, Pedrosa veramente stratosferico oserei dire, Lorenzo secondo, un Lorenzo sempre costante, sempre lì davanti, sempre tenace, terzo Chesistone che ha avuto problemi alla schiena, quarto in volata Andrea Dovizioso che ha battuto per 25 millesimi mi sembra Valentino Rossi. Una Ducati in crescita, almeno stando alle dichiarazioni di Valentino, non stando ai tempi. Valentino ha preso 16 secondi e mezzo, un po' come era successo nel primo Gran Premio e il distacco dal primo è sempre elevato, in prova Valentino ha subito un distacco di un secondo e un decimo, stesso distacco anche il lunedì nei test molto importanti del lunedì dove la Ducati ha approvato un nuovo materiale, quindi insomma è una Ducati che preoccupa anche un po' i tifosi, lo vedremo poi dalle mail, tanti tifosi della Ducati, tanti tifosi di Valentino si dicono preoccupati per questi risultati deludenti, a loro modo di vedere, della Ducati. Intanto faccio una premessa, credo, non ne ho la certezza perché nessuno me l'ha confermato, però sono abbastanza convinto che Valentino sia in prova sia in gara abbia già usato il telaio nuovo, quello che ufficialmente ha debuttato soltanto lunedì nei test del dopo Gran Premio. Un telaio che concettualmente è identico a quello precedente cambia la rigidezza, non sono stati fatti numeri, anche in questo caso li faccio io, se il telaio precedente della Ducati era rigido 10, questo si può dire che è rigido 2, quindi molto molto meno rigido, l'ingegner Filippo Prezioso ha detto abbiamo esplorato zone inimmaginabili per noi prima dell'arrivo di Valentino, quindi è comunque una Ducati che sta lavorando e sta cercando di ridurre il gap che c'è per il momento con le moto giapponesi, con la Honda e con la Yamaha. La mia sensazione è che la Ducati anche se è vista in gara, si è diventata un po' più costante, un po' più regolare e un po' più semplice, però a livello di tempo sul giro siamo ancora lontani. Iniziamo comunque con le mail, vi ricordo zamchiocciolamoto.it, iniziamo da un tifoso Ducati, Luigi, abbastanza deluso. Dice, sono un tifoso Ducati e volevo esprimere la mia delusione dopo la gara dell'Estoril. Dopo un mese di riposo mi aspettavo qualcosina in più, non ho visto alcun recupero tecnico, il gap con Honda e Yamaha è rimasto invariato dal GP precedente. Non capisco perché non si è voluto rimandare a lunedì gli aggiornamenti tecnici per rischiare un quinto posto. In realtà Luigi voleva dire esattamente il contrario, come mai è stato rimandato solo a lunedì l'utilizzo degli aggiornamenti tecnici? Ho già detto prima che secondo me e per secondo le mie informazioni Valentino l'ha usato anche in gara. Vale, mi sembra in recupero dal punto di vista fisico e non sono d'accordo nel dare alla sua spalla, in intervista di Preziosi, parte della motivazione sul ritardo in gara, quando è chiaro che i problemi sono altrove. Comunque forza Ducati è ora di reagire. Per quanto riguarda la spalla, l'ingegnere Preziosi non ha detto che le scarse prestazioni o le prestazioni al di sotto le aspettative sono dovute alla spalla di Valentino. Ha semplicemente detto che c'è anche questo l'evento. Comunque, già che affrontiamo l'argomento, Valentino almeno da quel punto di vista lì dopo il Gran Premio era piuttosto soddisfatto perché la spalla finalmente comincia a funzionare come si aspettava che funzionasse. Passiamo un'altra mela, anche questa piuttosto chiara, il titolo è che delusione, arriva da Daniele. Quando ho visto come la Honda ha sverniciato la Ducati in volata, io che ho sempre pensato che la Ducati avesse il motore più potente dell'otto, sono rimasto sorpreso. Non è stato molto tempo fa che Valentino dubitava che il motore della Ducati fosse un 800 cm3, come andava in rettilineo? Posso pensare che alla fine del Gran Premio Valentino abbia dovuto ridurre la potenza a causa dei consumi, ma alla fine, oltre ai problemi di telario, sembra abbia anche problemi di motore o no. Coraggio Valentino non mollare. Daniele non sono d'accordo con la tua email, o meglio, è vero che la Honda ha passato, non l'ha sverniciato, ha passato la Ducati in rettilineo, c'è stata anche una questione tecnica nel senso che Valentino ha sbagliato un po' l'uscita dall'ultima curva, quindi questo ha favorito il recupero di Dovizioso e poi stiamo parlando della Honda, la Honda che quest'anno è la moto che indubbiamente ha fatto un salto in avanti grande, più grande delle sue avversarie e quindi è una Honda che va fortissimo e proprio il punto forte dell'ARC è il motore, quindi non mi sembra così eclatante che la Ducati sia stata, è così negativo che la Ducati sia stata superata in rettilineo dalla Honda. Per quanto riguarda i consumi non credo che Valentino abbia avuto consumi come non li hanno avuti gli altri piloti e quindi il valore che abbiamo visto nel rettilineo finale è quello lì, nel senso che Valentino ha leggermente sbagliato l'uscita dalla curva, Dovizioso ha sfruttato al meglio la potenza della Honda e quindi l'ha passato in rettilineo. Quindi io non credo che abbiano tanti problemi di motore, tra l'altro è stato provato un motore nuovo nei test di lunedì, un motore più dolce perché secondo Valentino non serve troppa potenza ma serve un motore più dolce, motore che ha soddisfatto Valentino e che verrà utilizzato credo a partire dal gran piano di Barcellona perché con i motori contingentati bisogna aspettare di utilizzare completamente i due motori già funzionati e quindi soltanto a Barcellona vedremo questo nuovo motore ma la Ducati sta lavorando anche sotto questo aspetto. Altra email, mi chiedo perché la Ducati sapendo che i componenti in carbonio come qualcuno aveva ben spiegato non sentono le regolazioni, avesse bisogno di Valentino per capire che una moto senza telaio la guida solo un certo stoner. Pur essendo sostenitore di capirossi devo dare ragione a Milandri quando Loris gli disse che andare in superbike e non vincere significa fine della carriera, è ancora di quel parere? Allora per quanto riguarda il telaio l'ingegnere Filippo Freziosi lo sentirete anche in un'intervista domani sera a Griglia di Partenza spiega perfettamente che il telaio che sia in alluminio o sia in carbonio importa poco, cambia come viene realizzato, cambia la rigidezza, cambia la struttura del telaio, queste cose incidono sul rendimento della moto, non il materiale, quindi che sia alluminio o carbonio non c'entra niente, io credo sinceramente alle spiegazioni dell'ingegnere Filippo Preziosi, invece per quanto riguarda Capirossi, Capirossi purtroppo sta deludendo moltissimo, è vero la Ducati abbiamo visto ha delle difficoltà, però Capirossi è fuori strada completamente, non riesce a guidarla, non riesce assolutamente a sentire l'anteriore, questo gli fa perdere decimi su decimi ogni curva, il distacco finale è imbarazzante, è assolutamente imbarazzante, domenica è stato battuto anche da Elias, costantemente ultimo fino a domenica scorsa, direi che Capirossi è in grandissima difficoltà e dispiace vedere un campione come lui, uno che ha vinto così tanto, in così grande difficoltà. Altra email di Daniele, cosa dicono quei borriosi della Ducati a vedersi sverniciare sul rettilino da un dovizioso? Sarà più bravo a curvare di Rossi? Lorenzo torna al telaio dell'anno scorso, chi ha fatto l'errore più grande tra Yamaha fallo andare via o Rossi ad andare su quel cancello? Questa è l'opinione, la domanda di Daniele, allora per quanto riguarda quei borriosi della Ducati, io non capisco perché bisogna sempre insultare, io sono d'accordo con la critica, sono d'accordo che è giusto criticare, ma insultare i borriosi della Ducati non mi sembra assolutamente fuori luogo. Ho già spiegato, non è che la Ducati è stata sverniciata in rettilineo dalla Honda, sia Dovizioso sia Valentino Rossi hanno spiegato la dinamica dell'ultima curva, Valentino sentendo che Dovizioso andava all'esterno per lanciarsi per prendere più velocità, ha fatto la stessa traiettoria ma essendo davanti ha dovuto chiudere leggermente il gas, questo ha permesso a Dovizioso di sfruttare al meglio le qualità di potenza e velocità della Honda, di sfruttare la scia e di passare per 25 millesimi sul traguardo del pilota da Ducati, non mi sembra che sia stata sverniciata in rettilineo e in quel frangente Daniele Dovizioso ha effettuato la curva meglio di Rossi. Per quanto riguarda la Yamaha è vero che è tornata al telario del 2010, non è stato confermato in realtà da nessuno però Lorenzo ha solo parlato di regolazione del 2010, io anch'io sono convinto che sia tornato al telario del 2010, la realtà è che tra le due strutture c'è pochissima differenza, 2010-2011 cambia pochissimo in casa Yamaha. Andiamo avanti con un'altra mail, questa è di Maurizio, dice onestamente dare la colpa al povero Simoncelli per la caduta non mi sembra corretto, come giustamente dice Max, che sarebbe temporale, è entrato in curva con una marcia più alta ed è caduto con il gas chiuso, credo con la stessa dinamica di Rossi al Mugello, quindi se c'è un colpevole nero di gomme si chiama Bridgestone, tutti parlano della determinazione di Lorenzo ma dopo aver visto Pedrosa, ieri vince in quel modo, direi che bisogna rivedere questo giudizio, ciao a tutti. Non sono d'accordo neanche con te, Maurizio oggi non sono d'accordo con nessuno, non è colpa delle Bridgestone se Simoncelli è caduto, la colpa è soltanto di Simoncelli come lui stesso ha messo sia a fine corsa sia a lunedì ritornando sull'episodio, sappiamo che la Bridgestone ha dei limiti in questo senso però ha anche tanti altri vantaggi, abbiamo visto Pedrosa fare il record della pista al penultimo giro, Andrea Dovizioso fa il suo miglior giro all'ultimo giro, quindi è una gomma che ha un certo tipo di prestazioni, lo sanno perfettamente tutti i piloti, tutti i piloti sanno che nel primo giro bisogna stare molto molto attenti anche con il gas chiuso, non puoi permetterti di sbagliare neanche di un centimetro la traiettoria, purtroppo Simoncelli l'ha fatto e per questo è caduto, però a mio modo di vedere dare la colpa alle Bridgestone è fuori luogo ed è sbagliato perlomeno in questo momento, ripeto le gomme sono uguali per tutti, tutti i piloti sanno perfettamente che al primo giro bisogna stare particolarmente attenti, lo sa anche Simoncelli che infatti lunedì non si dava pace per l'errore commesso perché Simoncelli si è reso conto di aver buttato al vento la possibilità di giocarsi, sicuramente il primo podio in MotoGP ma forse anche la vittoria. Ci fermiamo un attimo e poi ritorniamo a c'è posta per ZAM, zamchiocciolamoto.it e l'indirizzo email dove mandare le vostre considerazioni. Grazie a tutti!